E' polemica Benevento per la nuova segnaletica che l'amministrazione Mastella ha commissionato per annunciare ai visitatori l'arrivo a Benevento, città d'arte e cultura che si freggia del riconoscimento unisco per la splendida Chiesa di Santa Sofia, patrimonio mondiale dell'umanità. Un'operazione di valorizzazione inaugurata in Pompamagna ma che ora sta raccogliendo critiche spietate. Se solo poche ore fa il sindaco Mastella aveva rivendicato un lavoro meticoloso per il recupero di numerosi spazi dimenticati per far rinascere la città, l'ultima iniziativa rischia di trasformarsi praticamente in un boomerang, proprio nel bel mezzo della campagna elettorale, per la singolare installazione dell'impianto cartellonistico al rione Pacevecchia. In particolare la targa, collocata in via Fratelli Rosselli, è eccessivamente addossata a quella toponomastica che praticamente la taglia perpendicolarmente, coprendone buona parte e rendendone impossibile la lettura. Un'immagine estonata che ha suscitato le polemiche e che risulta ormai praticamente virale sulle baccheche social. Tra gli altri a fare il verso alla nuova installazione Nazareno Orlando, ex assessora alla cultura e la coordinatrice della segreteria provinciale del PD Sannita, Antonella Pepe. Un lavoro risultato non proprio azzeccato, praticamente da rifare.